Poracci, quello che state per vedere è un video molto particolare, è un riassunto della live in cui insieme abbiamo letto e ascoltato due delle recensioni più importanti che sono uscite in Italia su leggende Pokémon Arceus. Da una parte c'è la stroncatura di IGN, che parla di un vero e proprio passo falso, mentre dall'altra la promozione di Cydonia, che indica il titolo come una solida base di partenza per il futuro del brand. Chi ha ragione? Dove sta la verità? Io vi propongo la mia analisi, ma sono curioso di sapere anche la vostra e se dibattiti del genere vi appassionano, mi raccomando venite a trovarmi sul mio canale, sul sito Viola, per altri contenuti di questo tipo, oppure sul mio secondo canale, qui su YouTube, dove ricarico per intere tutte le live, senza alcun taglio. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video vi piaccia, vi aspetto nei commenti e ci vediamo presto. Io sono il Poro Live, Michele Arceus, ciao! Allora, ci leggiamo un po' di recensioni, partiamo dalle italiane o dalle straniere? Andiamo con le italiane. Io più che altro vorrei leggere quella di IGN, perché è stata l'unica recensione che l'ha demolito. Leggende Pokémon Arceus, recensione. Abbiamo vagato a lungo nelle lande di Isui e siamo pronti a darvi il nostro responso sul gioco che dovrebbe rilanciare il brand. Mediocre. Recensione in breve. Un gioco che avrebbe dovuto rilanciare il brand e invece non compie i dovuti passi in avanti, restando bloccato in un limbo di mezzo che non sa di niente. Le poche novità sono mal implementate, quando non realizzate in maniera raffazzonata e approssimativa. Tutto ruota attorno al completamento del Pokédex a livelli eccessivi, tanto da bloccare la progressione della storia per ripetere ancora e ancora le stesse azioni. È una delle cose che mi spaventa di più, ecco. Loro la mettono come un problema che effettivamente rovina l'esperienza, i superfan Pokémon invece dicono che questa è proprio la figata del gioco. Ci siamo. Dopo tanto parlarne e speculare, siamo giunti al momento della verità, della svolta. Il grande salto per un'IP storica come Pokémon sembra essere alle porte. Dopo 25 anni chiuso nella propria nicchia, se non altro per quanto riguarda i capitoli principali, e con occasionali sbirciate all'esterno per provare a evolversi, pun intended, leggende Pokémon Arceus potrebbe essere il gioco che tutti, soprattutto i più veterani, aspettavano per respirare una boccata d'aria fresca. I più veterani non si può sentire. Sarà veramente così? Sì, mi spiace constatare che siamo ben lontani da quello che avremmo voluto e la serie avrebbe meritato. Il cambio di passo del franchise si è rivelato essere soprattutto un inciampo, che forse fanno più accaniti di Pokémon e difenderanno a spada tratta, e scudo sguainato, no, scudo alto, da cui non sarà facile riprendersi. Vediamo perché. Mmm, cazzarola. Quando manca trucco e parrucco. Per una volta ribalto la situazione e comincio parlando di quello che è sotto gli occhi di tutti già dai trailer, e sarà, in ogni caso, il primo elemento a colpirvi una volta avviato il gioco, il comparto artistico e tecnico di leggende Pokémon Arceus. Non ci sono parole per definirlo, nel 2022, su una console che ci ha regalato The Legend of Zelda Breath of the Wild, se non inqualificabile. Vabbè, è scritta un po' male questa frase, o forse non so leggere io, però dice, non puoi definirlo in nessun altro modo se non inqualificabile. Tutto risulta abbozzato e pigro, dai modelli alle texture che sono implementate male, a volte mancano addirittura, appaiono e scompaiono, fino a una direzione artistica di per sé sfilacciata e priva di coerenza. Ok, vabbè, qui paragrafetto sul comparto grafico, sin troppo facile criticare una grafica che, vabbè, l'ha detto anche lei, sotto gli occhi di tutti, fa cagare. Vuol dire direzione artistica sfilacciata? Beh, bella domanda. Sfilacciata e priva di coerenza, che forse prende tante cose diverse e non le unisce in un corpo unico in grado di essere appunto coerente. Sono tanti fronzoli che non vanno da nessuna parte. No? Giusto? Artstyle molto... Ah, però c'è da dire che rispetto a Artstyle molto ispirato e direzione artistica riuscita, una direzione artistica sfilacciata non l'avevo mai sentita, quindi ben vengano nuovi aggettivi per dire sempre la stessa cosa. Non c'è gusto i modelli... E questo è probabilmente covid, ragazzi, non c'è gusto e covid. I modelli si presentano riciclati all'infinito con a volte qualche variazione nei colori degli abiti, ma molto più spesso si vedono uno uguale all'altro, affiancati persino. Per essere in una ipotetica era feudale, in alcuni aspetti si respira un'area un po' troppo moderna che va per forza di cose a cozzare con l'ambientazione, creando un inevitabile scollamento che impedisce di immergersi nel mondo di gioco. Vabbè, qui ritorna un po' il concetto detto prima, tutto molto sfilacciato. Quando poi ci si avventura all'esterno del villaggio la situazione non fa che peggiorare. Manca una distinzione tra le diverse aree esplorabili che pur rappresentando biomi diversi non differiscono granché. Deformazione del terreno assente, texture dell'erba che risale i tempi della PlayStation 2, e lo stesso vale per altri materiali. Gli alberi sono 3 o 4 asset che vengono riutilizzati in continuazione, con il fogliame che è in realtà composto da fogli incrociati l'uno sull'altro. Gli specchi d'acqua ricevono identico trattamento, con l'aggravante che è impossibile capire quando un elemento è immerso anche solo parzialmente, perché non c'è una vera e propria interazione con la superficie. Si avverte il rumore, magari, ma visivamente c'è il vuoto più assoluto. Beh, per ora, ragazzi, è solo una, diciamo, analisi tecnica, ma è sotto gli occhi di tutti che il titolo graficamente fa cagare, quindi magari lei l'ha giocato un pochino più a fondo e si è resa conto anche di cose che magari dai trailer non si intuivano. Però a livello grafico è indifendibile, no? Cioè, magari sta calcando un po' la mano, però non me la sento di dire no, è un'analisi fatta male. Comunque, ragazzi, se stiamo facendo una recensione è giusto evidenziare tutto quanto e poi eventualmente progredire nel discorso dicendo le cose stanno così, però effettivamente ci si può passare sopra oppure effettivamente non ci si può passare sopra. Questo poi dipende anche molto dalla sensibilità personale, no? E penso anche quanto uno poi è investito all'interno del brand. Riguardo ai Pokémon, se possibile si va peggiorando perché al di là, anche in questo caso, di animazioni risicate, lasciando vagare lo sguardo all'orizzonte si possono a volte notare alcune creature muoversi come se fossero dei cubi di Rubik a scatti che forse si possono ricondurre a 3 FPS. Questa cosa si manifesta quotidianamente anche con elementi più vicini a noi, ma l'effetto peggiore è chiaramente quello sulla lunga distanza. In generale si percepiscono comunque dei cali di framerate che non si dimostra mai stabile. A proposito di distanze, il gioco fatica anche a caricare i modelli lontani e seppur in rari casi può inficiare alcune missioni secondarie. In che modo? Non aiuta in un tal senso i più frequenti effetti pop-up. Se c'è un comparto dove leggende Pokémon Arceus è bocciato in toto, persino in portatile, la cui performance è comunque migliore che collegata a un televisore, è proprio quello tecnico e artistico. Vabbè, è addemolito il gioco. Sia, qui parla addirittura di svogliatezza e pigrizia. Sarebbe da capire quanta incompetenza e quanta svogliatezza e quale delle due è peggiore, però bisogna essere obiettivi e anche l'occhio vuole la sua parte. Poi ognuno dà l'importanza che preferisce. Però in un contesto moderno, in un contesto di una produzione comunque importante, dispiace vedere magari un lavoro realizzato in maniera approssimativa. Il framerate per multiplayer è perfetto, ecco. Questo andrà verificato giocando, ragazzi, per forza di cose. Leggende Pokémon Arceus ha fatto maturare con gli appassionati la speranza, quando nulla convinzione, che la storia avrebbe ingranato una marcia in più rispetto alle trame imbastite fin dagli esordini nei capitoli principali. Complici ambientazioni in una sinno feudale, che qui prende il nome di Hisui, le aspettative erano che, sfruttando lore e mitologia, si sarebbe messa in scena per la prima volta una narrazione meritevole di essere vissuta. Purtroppo così non è stato. Senza scendere nei dettagli, la scrittura generale è inconcludente, povera e spesso slegata dal punto di vista logico. Non c'è nemmeno una vera e propria storia, voler essere precisa, quanto un susseguirsi di eventi che si vorrebbero elevare a narrazione, ma non riescono a essere sufficientemente coesi o interessanti per ambire a un simile obiettivo. Se è possibile, è un'avventura persino più costrittiva su binari rispetto alle precedenti, questo è gravissimo. Ma lo approfondirò in seguito perché è un discorso legato alle meccaniche di gioco. Volendo andare un po' più nel dettaglio, senza spoiler, gli stessi dialoghi e personaggi sono al limite dell'esasperante e del ridicolo, combattute che vorrebbero far ridere senza riuscirci, vedendo pari ciclati di continuo, fino a intermezzi inutili che sembrano messi lì tanto per fare la riempitiva e comprimari di cui vorresti sbarazzarti dopo un secondo, e invece sei costretto a subire dall'inizio alla fine. Ne risulta una trama scialba che persino in quegli considerabili colpi di scena non stupisce, o è perché era facile intuirli o per la banalità degli stessi. Le basi sulle quali poggia leggende Pokémon Archeos avrebbero avuto tutte le carte in regola per realizzare una sceneggiatura in grado non solo di reggersi, ma anche di parlare a grandi e piccoli. Ma è scritta in modo strano con questa recensione. Visto il bacino molto ampio di denti che il franchise raccoglie. Invece si è optato per una trama deludente, ma non è che uno opta per una trama deludente. Allora ragazzi, per cosa optiamo? Facciamo una trama di merda? Sì, sì, facciamo una trama di merda. Ok, perfetto. Soprattutto qui leggende Pokémon Archeos fallisce perché è quel tipo di scrittura che ti mostra una Pokéball per poi dirti Vedi? Questa è una Pokéball. Ah, direi che qua è un po' il problema di tutta narrazione giapponese, no? Però... Forse, diciamo, sembra ipercritica come recensione. Anzi, sicuramente ipercritica. Più che altro, da quello che leggo, anche il 5 mi sembra troppo alto come vuoto. Magari ora si riprende un po'. Non ha mai giocato a un titolo a poco, non riesce a contestualizzare ciò che sta recensendo. Un po' come dire, storia poco matura, della Stovassolo è molto di più. Probabilmente non è un super appassionato della serie, ma ci sta. Il fatto è che, appunto, dovresti conoscere il tuo limite e cercare quanto più possibile comunque di contestualizzare quello che stai giocando. Che magari non fa per te, però ha senso nell'ottica di un tipo di produzione. Insomma, Pokémon riparte dalle fondamenta con l'obiettivo di costruire una vera e propria lore, per quanto i risultati ottenuti non lasciano ben sperare, tramite un gioco che non va letto come spin-off, bensì come un prodotto pensato per rilanciare il franchise. A livello generale l'obiettivo è stato mancato, ma questo non significa che leggende Pokémon Arceus non faccia nulla bene. Il problema è che gli aspetti funzionali e funzionanti capaci di migliorare la qualità della vita sono fortemente minori come numero e importanza rispetto alle stonature che invece si percepiscono con chiarezza. Quindi, un po' di cose buone all'interno di un mare di merda. Il problema, da quello che traspare in questa recensione, è che il gioco prova in molti modi a staccarsi dalle convenzioni della serie, ma fallisce proponendo delle formule sfilacciate tra di loro, proprio come l'art style, che non danno un risultato coeso e coerente, non è un gioco compiuto, ma è un gioco che ha delle buone intuizioni in un mare di merda. Per paraprasare quello che sta dicendo il recensore. Si, diciamo, poi c'è sempre il fattore oggettivo, però appunto uno dovrebbe sempre provare quanto più possibile a contestualizzare e a capire quali sono i limiti del proprio punto di vista. Però ragazzi, resta il fatto che lei l'ha giocato e noi no. Quindi, in un certo senso, finché non abbiamo il suo stesso grado di conoscenza, non possiamo criticare neanche più di tanto. Possiamo criticare magari se il testo è scritto male o se delle cose sono eccessivamente aggressive o possiamo ritenere sbagliate, ma a conti fatti finché non proviamo il gioco non è che possiamo dire più di tanto, insomma. Io né questa né quella di Sidonia ho capito un cazzo di minchia, beh, ci sono io per farti capire ancora di meno. Il Pokédex è l'esplorazione di Isui. Leggende Pokémon Archeos basa quasi interamente sviluppo e progressione sul completamento del Pokédex. Ciò significa che il nostro compito principale è catturare, analizzare e catalogare i Pokémon che abitano Isui. Tutto nel gioco è legato a questa assoluto, a questo assoluto persino la trama. Con buona pace di chi auspicava una progressione più libera. Come ho anticipato nel paragrafo legato alla storia e alla narrazione, anzi, siamo davanti a una restrizione persino maggiore di quella dei vecchi capitoli canonici. Tene vari Pokémon rosso, giallo, oro, rubino e via discorrendo fino ad arrivare a spada e scudo. La trama era sì lineare ma priva di veri e propri impedimenti che ne bloccassero il proseguimento. Leggende Pokémon Archeos propone una regione suddivisa in mappe, il cui accesso però ci è precluso se non soddisfiamo determinati requisiti. Come membri ufficiali della scuola di ricerca bisogna obbedire a una gerarchia che prevede la scalata a rango dopo rango fino al più alto. Dobbiamo conquistare la vetta ottenendo punti ricerca. Di per sé non sarebbe stata una brutta meccanica se tuttavia il suo funzionamento non fosse stato legato solo e soltanto all'esplorazione fuori dal villaggio alla cattura e al combattimento sempre degli stessi Pokémon se le aree successive sono precluse dobbiamo accontentarci fino a completare le pagine del Pokédex essendo premiati con dei punti e raccoglierne abbastanza per venire promossi. Mi giro la testa. Ancora e ancora il gioco ci obbliga a compiere le medesime azioni anche quando non vorremmo senza che la trama o le missioni secondarie ci vengano in soccorso. Ripeto, se concettualmente l'idà del rango potrebbe avere senso non ce l'ha comunque a livello di trama ridurre la sua progressione a una tediosa ripetizione di incarichi tutti uguali e soprattutto non farlo quantomeno andare di pari passo con la trama è una decisione difficilmente scusabile. Pokémon da sempre è un gioco libero pur nei suoi limiti narrativi. Non mi è mai capitato di sentirmi costretto a ripetere una stessa azione più e più volte fino a quando la storia non si sarebbe sbloccata. Tutto era fluido e commisurato alla progressione con anzi elementi di contorno che permettevano di sviare un po' l'attenzione. Qui tutto si riduce a esplorare, catturare, combattere in generale seguire le indicazioni del Pokédex per completare le sue pagine. A proposito di Pokédex spezzo una lancia in favore la prima dopo un'ora l'ho trovato ben realizzato nel complesso è dettagliato ben disegnato e le informazioni si completano mano a mano che iniziamo a conoscere meglio un Pokémon. Le voci sono suddivise per macro aree ma c'è anche una scheda omnicomprensiva di tutta Isui è possibile inoltre scegliere l'ordine in cui vengono mostrati Pokémon da quello alfabetico fino al numerico passando per altre categorie che vi lascerò scoprire. Il fatto che vi si possa accedere tramite un solo pulsante dall'interfaccia utente rende il tutto ancora più rapido e facilmente consultabile. Questa è una di quelle migliorie di cui accennavo piccoli tocchi quelli che coinvolgono soprattutto l'add e si dimostrano efficaci nel velocizzare determinate operazioni ma in generale non bastano oscurare i macro difetti che leggende Pokémon Arceus si porta dietro. Tutto ruota attorno al Pokédex e purtroppo non funziona rende l'intera esperienza inutilmente macchinosa farraginosa legata a un grinding e a un farming che nei vecchi giochi sono sempre stati opzionali la storia procedeva sui suoi binari senza che qualcosa di tanto tedioso si mettesse di traverso forzandoci ad azioni che nessuno si metterebbe mai in mente di fare non a questi livelli maniacali non conosci i veri giocatori di JRPG o comunque rimarrebbe sempre una decisione personale e non un'imposizione inevitabile per riuscire a vedere la fine dell'avventura. Chiudo questa lunga riflessione sull'esplorazione legandomi alla direzione artistica le varie lande che andremo a visitare sono tutte così scialbe prive di spunti che nonostante le cavalcature a nostra disposizione per tornare a visitarle e raggiungere punti prima inaccessibili non si sente davvero uno stimolo a farlo certo potremmo trovare qualche nuovo pokemon ma esattamente come spalla e scudo mancano percorsi più articolati che rendano le traversate avvincenti segreti, grotte percorsi alternativi non c'è nulla di tutto questo e la facilità con cui nonostante tutto si possono attraversare le lande non motiva seriamente un'esplorazione approfondita lo si fa perché si deve o appunto per completare il pokédex ma nient'altro unico elemento interessante nel corso dell'esplorazione è l'occasionale evento casuale sparso per la mappa che ci mette nelle condizioni di trovare oggetti rari e pokemon che altrimenti non ci sarebbero altrove il fattore sorpresa gioca un ruolo fondamentale soprattutto la prima volta poi la sua evidente limitatezza colpisce duro e rende anche questa meccanica ridondante tuttavia non se non ne si può non ne si può negare il fascino iniziale si dice non ne non ne non ne si può non se ne può negare il fascino iniziale io l'avrei scritto così di nuovo il farming pesante fa sentire la sua presenza in modo decisamente più potente alla lunga stancante madonna che imprese allora comunque cioè quello che dice poi mi sembra di averlo letto anche nella recensione di Sedonia sostanzialmente la progressione è molto diversa a quella dei pokemon classici e c'è il problema che è tutto molto più diluito e bisogna fermarsi a grindare mentre prima bene o male il grinding era opzionale qui adesso invece è diventata una parte integrante proprio come accade poi nei grpg in generale ci sono dei momenti in cui sei costretto a fermarti e a fermare la progressione della storia per per salire il livello accenna delle cose che dice sono affascinanti però non riesce a dare veramente il senso di prima ha parlato di miglioramenti alla quality of life ma in cosa consistono qua parla soltanto del fatto che il pokédex lo puoi raggiungere con un solo tasto ma basta cioè è solo quello ha preso 5 questo gioco e l'unica cosa positiva che ho letto per ora è che il pokédex è bello e lo puoi raggiungere facilmente però a tempo stesso tutto il gioco non è altro che un farmare un dito al culo è enorme perché bisogna non bisogna fare altro che farmare le voci del pokédex quindi sarà bello però è una palla arrivarci non lo so vuole la recensione gli do non lo so allora non mi fanno impazzire in realtà a me le cioè quando scrivi su una rivista le recensioni estremamente estremamente personali secondo me ci andava un po' troppo in cattivita nel senso non che stia criticando degli aspetti sbagliati ma sembra più che altro uno sparare sulla croce rossa non c'è veramente nient'altro di positivo non c'è nient'altro di bello non c'è nient'altro che potrebbe effettivamente rappresentare quell'isola felice per chi si è rotto il cazzo e giocare allo stesso gioco da 25 anni è chiaro che se tutti quanti dicono il contrario e una sola voce dice che non è così c'è qualcosa che non torna no? date le impressioni scritte finora è piuttosto facile farsi un'idea della giocabilità generale di leggende Pokémon Arceus pur non avendo riscontrato crash o bug invalidanti di sorta il calo di FPS gli effetti pop up la difficoltà nel caricare i modelli in lontananza la generale pigrizza e il comparto tecnico tutto concorre a generare un'esperienza non esattamente ottimale in termini di giocabilità non aiuta non una storia raffazzonata come trame e scrittura un gameplay che ruota interamente intorno al Pokédex creando gli inutili impedimenti d'avventura e le poche meccaniche nuove mani implementate quando non deludenti da cima a fondo ed è un peccato perché alcune cose buone il gioco le fa soprattutto in termini di interfaccia ma non sempre poter cambiare Pokémon al volo sia nel modo di gioco sia nelle battaglie sia nel mondo di gioco sia nelle battaglie senza per forza passare dal menu e similmente utilizzare gli oggetti con la stessa rapidità offre senza dubbio un valore aggiunto se poi si vuole vedere più nel dettaglio il menu è a portata di mano e serve a questo al di là di questi comandi come quello per accedere al Pokédex che occupano soprattutto la parte bassa dello schermo il resto della schermata risulta pulito privo di orpelli inutili la navigazione alla mappa è semplice e intuitiva il viaggio rapido disponibile fin da subito risparmere lunghe traversate da un punto all'altro è un peccato che ci sia concentrati su dettagli non trascurabili ma se non altro da tenere in secondo piano anziché profondere impegno in tutto quello che davvero non funziona in Leggende Pokémon Arceus non bastano occasionali strozzate d'occhi ai fan se ben apprezzabili per salvare un progetto che avrebbe ok va bene Leggende Pokémon Arceus si rivela essere un'enorme occasione mancata probabilmente la più grossa delusione all'interno del franchise attenzione avrebbe dovuto essere davvero la svolta l'entusiasmo c'era e andava di pari passo una crescente richiesta di cambiamento di evoluzione dopo 25 anni di un filone principale sempre identico si sarebbe voluto avere qualcosa di nuovo invece si ricade nella banalità di meccaniche mal implementate una storia affazzonata un comparto artistico e tecnico inguardabile e quel poco di buono che si respira minore in termini di quantità ma anche di importanza rispetto alla moltitudine dei problemi che il gioco si trascina dietro non si può né si deve nascondersi dietro la scusa che Pokémon è sempre stato un brand chiuso in se stesso conservatore perché il passo verso un altro genere quello del GDR open map è stato compiuto gli esponenti sono maggiori così come la possibilità di fare comparazioni che significa gli esponenti sono maggiori pretendere di restare così chiusi nella propria nicchia nonostante tutto ignorando la qualità raggiunta attorno a sé per pretendere di riproporre la stessa minestra è un errore che rischia di costare caro un gioco derudente che avrebbe potuto e dovuto sfruttare l'occasione per fare il grande salto invece si trattiene ancora una volta per un risultato desolante 5 Switch comunque come recensione non mi ha fatto impazzire pure quando ho recensito Baldo cercherò di essere il meno aggressivo possibile questa è super dura è molto cattiva come recensione questo è più un problema di stile personale molte cose che dice sono vere una volta giocato potrò dire anche se sono condivisibili o meno però secondo me sono presentato in modo sbagliato questa recensione mi ha confuso più dello stordiraggio di un Zubat esatto dovete anche capire questa cosa secondo me cioè va sempre contestualizzata che il problema delle grandi riviste dei grandi portali eccetera è che ci scrivono tante persone diverse e per quanto si cerchi sempre di dare una sorta di linea editoriale alla fine ognuno ragiona con la sua testa e ci sta pure che non tutti i voti siano riconducibili poi alla stessa scala di valori soprattutto quando poi vengono recensiti i giochi così diversi tra di loro quindi il voto voi prendetelo sempre relativamente leggetevi i testi se vi interessa la recensione ora ce la leggiamo e cerchiamo anche di capire quella di Stedonia cerchiamo di capire insomma qual è il suo punto di vista no? e come possiamo relazionarci sia da fan della saga che non da fan della saga ah questa cosa scusa vado subito alla fine qui penso sia più un problema di nintendo cioè non so assolutamente come siano andate le cose ecco cioè esce la recensione quindi l'embargo è finito ok? cioè in teoria quando esce la recensione tu puoi parlare del gioco per me non ha senso che una recensione c'è scritto non posso purtroppo parlare dell'esatta durata né della campagna principale di leggende pokemon arceus né del post game e pertanto mi limito mi limito limito non è che sia limitato ma è mi limito limito a dire di essere rimasto soddisfatto della longevità complessiva la difficoltà del titolo come già menzionato durante l'analisi del suo nuovo combat system è progressiva e sempre efficace non permettendo mai al giocatore di giocare distrattamente in particolare durante le battute finali e questo non capisco perché non può cioè di sicuro questa è nintendo che ha detto non potete che ne so non potete parlare dell'evento che succede dopo il secondo capitolo non potete citare esattamente come è fatta la terza area molto spesso le recensioni hanno dei blocchi quando firmi l'embargo acconsenti a non trattare nel dettaglio determinati temi ma mi pare assurdo che nintendo non abbia permesso di dire quanto dura il gioco tra l'altro lo stanno giocando tutti lo sanno già tutti l'hanno già finito cazzo nel video ci sono gameplay che non sono tratti dal trailer sì però per esempio io ho visto quello di nintendo life nintendo life ha fatto un video di 10 minuti con penso 6 scene in totale di footage ripetute all'infinito quello di sedonia ho visto solo l'inizio si apre con il trailer tra l'altro ultra compresso una merda mi sa che l'hanno tipo scaricata a bassa definizione e poi l'hanno upscalato una scelta coraggiosa e rischiosa che oggi ci pone davanti al primo videogioco vedete scusate cioè non so che hanno fatto non l'ho montato io sto video però hanno usato un trailer a bassa definizione questo perché probabilmente nintendo non gli ha fatto acquisire abbastanza footage oppure non gli ha dato gli asset a volte hanno pure gli asset per le anteprime questi hanno scaricato un trailer a bassa definizione e poi l'hanno riutilizzato in fase di montaggio alzandolo di risoluzione e la cosa stupida è che hanno fatto pure un filmato a 50 fps che poi provoca per forza di cose questi artefatti sono bruttissimi da vedere ecco questo qua non è un problema della mia della mia stream ma proprio come hanno esportato il video è una cosa un po' brutta da vedere ma parlo da montatore video partiamo dall'ambientazione Isui è una regione come raramente sembra depresso a me sembra gli ero dato tipo il culo l'ampiezza di veduta del giocatore permette di assaporare uno dei più grandi pregi dell'opera la libertà di movimento e la possibilità di scegliere come obiettivo qualsiasi location che possa essere visibile a occhio nudo capite qua siamo totalmente all'opposto di quello che abbiamo letto prima perché dice che il level design è ottimo è ispirato si sviluppa sia in orizzontale che in verticale e le aree sono proprio ben hanno un bel world design un level world design ma al tempo stesso la quality of life non è proprio il massimo perché manca la minimappa che è una cosa un po' assurda in un gioco dove l'esplorazione è la cosa principale mentre nell'altra recensione le mappe erano una merda però dai sulla quality of life ci hanno fatto qualcosa di bello uno e due si sta sbagliando chiaramente sì che bello il poter vedere l'orizzonte mi dà la sensazione di libertà però al tempo stesso è un'arma a doppio taglio cioè poter vedere un orizzonte così desolato è pure libertà e depressione voglio tornare indietro e non voglio esplorare però vabbè si tratta di un elemento di gioco fatto di luci e ombre se completare tali quest è sempre stato soddisfacente dal punto di vista narrativo sul piano del gameplay risultano spesso piuttosto ripetitive ad ogni modo come è ampiamente anticipato dalla campagna marketing leggende pokemon arceus ruota attorno allo studio e cattura delle varie creature selvatiche dell'overworld se io qua per esempio ha detto che il gioco è estremamente ripetitivo nella progressione nel completamento dei task delle missioni e che sì che bello è una cosa nuova però luci e ombre cioè ci sta qualcosa che non non torna se mi dici che un gioco è estremamente ripetitivo e dura 30 ore c'è un problema perché o sei veramente o c'è veramente qualcosa che ti cattura e non ti fa pesare il fatto che stai facendo sempre la stessa cosa oppure significa che riesci a passare sopra dei difetti perché magari sei appassionato del brand sentite questa sentite questa parte che è più o meno quello che ha detto la recensione di IGN prima però in una formula forse un po' più sensata se le vostre esperienze JRPG sono solitamente improntate verso un rapido completamento della campagna principale senza soluzione di continuità per poi dedicarvi ad attività collaterali solo in un secondo momento faticherete a digerire leggende Pokémon Arceus personalmente ho adorato questa componente fortemente ruolistica senza neanche sentirmi costretto artificialmente dal titolo ho cercato di studiare spontaneamente ogni singolo Pokémon della regione di Isui per scoprirne la sua descrizione però capite che comunque sta mettendo in luce dei problemi che non sono da poco lui dice io l'ho adorato e sono stato al gioco cioè quello che sostanzialmente devi più e più volte catturare sempre gli stessi Pokémon per studiarli non l'ho sentita come una mia imposizione cioè come un'imposizione del gioco perché non sentivo la necessità di progredire nella storia ma volevo più che altro esplorare ogni singolo centimetro e scoprire tutti i segreti del Pokédex però cioè nel senso non è un'imposizione è una sua scelta però diciamo è stato fortunato perché è una scelta che si sposa con l'idea di come i game designer volevano che fosse giocato il gioco ma non c'è un'alternativa questo potrebbe essere un problema e se io non volessi studiare tutti i Pokémon tutte le voci usa pure un termine brutto dice una valanga di incarichi tutti uguali ma se io non volessi farli tutti e a quanto pare il gioco non ha un'alternativa e questo secondo me potrebbe essere una criticità ecco fino a divenire di un rosso acceso segnò che l'esploratore è ormai prossimo allo svenimento solo una volta lontani dalle collutazioni vado che brutta scusate però questo è bellissimo fino a divenire di un rosso acceso segnò che l'esploratore è ormai prossimo allo svenimento solo una volta lontani dalle collutazioni dopo un periodo di tempo scorsi senza subire danni però ecco questo aiuta a capire la grandezza di breath of the wild il fatto che il link effettivamente viveva ogni singolo centimetro dell'open world di ariel di breath of the wild che era veramente esplorabile perché il corpo si adattava a quello che calpestava a quello che scalava e non vedevi ste cagate mamma mia che ti danneggia pure è assurdo benché quindi la sezione action di leggende pokemon arceus sia ancora acerba questa riesce comunque a convincere in alcuni frangenti anche qua ha detto sono belle intuizioni però non funzionano perché i movimenti sono rigidi sono legnosi la schivata è OP e poi il problema è che può morire tra virgolette e quindi la soluzione più efficiente è quella di evitare gli scontri non con la fuga ma attaccando direttamente con i pokemon e anche qua dice quello che poi state scrivendo in chat prima beh dai è legnoso non funziona benissimo però dai è un buon inizio proprio come per la sezione degli attacchi in overworld anche lo stealth game di leggende pokemon arceus alterna elementi efficaci ad altri da rivedere per eventuali future iterazioni in mancanza di ostacoli dietro i quali nascondersi il giocatore è spesso costretto a usare molti strumenti in combo non perché lo desideri ma perché non ha alternativa però vedete questa qua per esempio è una critica molto figa molto intelligente no? cioè ti dice ok hanno fatto una hanno dato molta importanza alle componenti stealth però allo stesso tempo il world design è così scialbo il level design è così scarno che non ci sono fisicamente punti dove nascondersi se ci fosse stata una vegetazione più più folta più massi rocce cose su cui arrampicarsi avrebbe avuto un senso questa enfasi sullo stealth invece così se uno vuole essere stealth deve spammare gli oggetti che distraggono i pokemon non si può optare veramente cioè non si ha proprio la possibilità di risultare invisibile e questo ti fa capire quanto poi alla fine la realizzazione tecnica di un qualcosa non sia un elemento che sta là e non interagisce con gli altri aspetti di una produzione ma diventa parte integrante del gameplay se non ci sta una modellazione poligonale adeguata in una mappa ne risentono anche gli altri elementi in questo caso lo stealth restando in tema di scontri il combat system di Arceus è cambiato tantissimo rispetto ai precedenti titoli le statistiche dei pokemon per cominciare non so qui non mi esprimo più di tanto però voglio chiedere a voi scrivete anche in chat che ne pensate di questa meccanica di diciamo il boss con l'armatura da distruggere tirandogli le breccole spammando sassate per mezz'ora a me non sembra troppo invitante come cosa anzi semplicemente ha cambiato di ruolo adesso le creature salgono di livello non per soverchiare ma che cazzo era ma che hanno fatto adesso le creature minchia raga ma gli ha esploso il pc mentre mentre indrizzavano salgono di livello non per soverchiare l'avversario con le proprie statistiche soverchiare ma per evolvere e a prendere nuove mosse più minacciose giocare a leggende pokemon arceus significa ricevere una moltitudine di stimoli variegati ecco questa è una cosa figa molto importante perché obiettivamente per esempio i remake di quarta generazione te li potevi fare tranquillamente spammando il tasto a tutto il tempo cioè era di una facilità imbarazzante poi arrivi alla fine che c'hai uno spike di difficoltà assurdo un picco proprio incapibile però per il resto ti sei fatto 20 ore di gioco col cervello spento se vuoi che insomma non è proprio un altro stravolgimento dei combattimenti è il funzionamento dei turni con un sistema simile all'ATB ma infatti scusate mi stavo chiedendo dal commento di Liam Gray cioè lui parla di ATB quindi Active Time Battle ma l'Active Time Battle è quando sostanzialmente anche mentre sei nei menu il tempo della battaglia scorre e se tu non dai un input comunque gli altri continuano ad attaccare riempie una barra di tempo che è quello diciamo è il cooldown tra una mossa e l'altra quindi sostanzialmente nei sistemi con l'ATB tu non ti puoi permettere di tempi morti qui mi sembra invece una cosa semplicemente più simile a quello che era un Final Fantasy X sistema di turnazione che prende in considerazione la velocità dei singoli attaccanti non è un Active Time Battle mi sa che sta facendo confusione semplicemente col fatto che non vai in una schermata di combattimento esatto conditional turn based ha pure più senso no? questo qua se tu stai fermo non succede nulla passando al lato tecnico la grafica del gioco rappresenta il difetto più grande sostanzioso e incisivo il quarto tecnico ha comunque subito questa estrema compressione per far spazio a profondità di campo e frame rate perfettamente stabile perfettamente stabile che mantiene i 30 senza particolari acciacchi che mantiene i 30 senza particolari acciacchi che però va in contrasto con la frase appena detta perché se comunque ha delle incertezze non è perfettamente stabile ma anche qua è in netto contrasto con quello che abbiamo detto in una recensione di IGN per concludere leggende Pokémon Arceus è esattamente ciò che aveva promesso una nuova frontiera per la serie come tutti gli esperimenti il titolo presenta però margini di miglioramento e tecnicamente parlando purtroppo soffre quello che sembrerebbe essere uno scarso tempo dedicato all'ottimizzazione e se il risultato talvolta è spigoloso i tanti bersagli centrati non possono che portare a una promozione dell'opera di Game Freak allora in chat scrivevano chi ha ragione IGN o Sidonia io vi dico questo vi dico quello che penso secondo me IGN e Sidonia dicono esattamente la stessa cosa ma da due punti di vista diametralmente opposti da una parte c'è una persona che non ha nessun tipo di legame sentimentale con il brand di Pokémon e in maniera anche un po' diciamo astratta e decontestualizzata asfalta un titolo che magari non si meritava tutto questo 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 astio questa credine nei suoi confronti dall'altra abbiamo Sidonia esperto del settore fa un'analisi approfondita proprio on point perfetta accuratissima però al tempo stesso è come se lo dicesse in continuazione allo stesso tempo parlo da fan della serie parlo da grandissimo appassionato e dico che ci sono dei difetti ma nell'ottica di quello che rappresenta all'interno del brand riesco a passarci sopra è più interessante la recensione di Sidonia e dovete fare una media tra i due voti e trovare insomma farvi se volete trovare proprio il numero vero quanto vale il gioco ok altrimenti dovete fare una media tra le due opinioni e cercare di capire qual è il vostro punto di vista rispetto a degli evidenti difetti ma allo stesso tempo ha degli evidenti progressi nella formula di gioco dovete capire anche voi quanto siete disposti a soprassedere quando ci sono dei palesi difetti dipende insomma molto da voi è sicuramente un gioco interessante ma al tempo stesso è un gioco problematico è sicuramente un gioco che innova tanto ma non in assoluto solo all'interno di una serie quindi rimane questo rimane un prodotto fatto da game freak quindi un prodotto fatto col culo ma che se si è appassionati della serie può essere effettivamente proprio quello che si aspettava da anni tutto ciò è una paraculata difetti enunciati vengono buttati via nel soggettivismo non è un gioco che si rivolge a un'icchia di pochi archeologi e mi sembra evidente guarda secondo me invece è il contrario cioè secondo me è solo il voto che vi frega però lui è super obiettivo durante la recensione lasciate perdere il voto però durante la recensione è super obiettivo dice io l'ho adorata però effettivamente se siete dei giocatori che cercano una progressione più lineare meno diluita meno ripetitiva vi piacciono i jrpg ma vi piacciono più diretti un po' più moderni questo non è un gioco che fa per voi se siete invece dentro la lore se siete invece super fomentati se siete dei super fan sto gioco vorrebbe essere il paradiso come recensione mi è piaciuta perché a differenza di quell'altra chi non riesce a giustificare il 5 perché spalla tantissima merda ma non dice che ci sono delle cose che funzionano per arrivare a un 5 che comunque si è un'insufficienza ma non è un'insufficienza così grave quella di Sedonia se non altro dice ci sta A però c'è anche B c'è C ma c'è D ci sono diversi punti di lettura di ogni singola cosa poi sta a voi maturare un'opinione in merito quello che non perdono a Sedonia in questa recensione è il video montato malissimo no poracci probabilmente non hanno avuto materiale a disposizione magari è stato pure un video improvvisato all'ultimo non hanno potuto cercare più di tanto capisco che una produzione di 20 minuti è tanta roba ma loro sono abituati in realtà a montare video ben più lunghi questo era pieno di errori di montaggio e da montatore video sono quelle cose che mi triggerano però anch'io faccio un sacco di errori di montaggio quindi meglio se mi sto zitto tutto ruota attorno al completamento del poker x a livelli eccessivi tanto da bloccare la progressione della storia per ripetere ancora e ancora le stesse azioni questo IGN non ha capitolo la lore e l'ambientazione del titolo nonostante le pecche secondo me è un bel titolo che soffre di sempre lo stesso problema di game freak ovvero comparto tecnico e ora che tutte le testate giornalistiche lo dicono cambieranno sicuramente miglioreranno col tempo come è successo con spazio scuro si spera però guarda in realtà e ti ripeto questa qua è la stessa cosa che dice Cydonia cioè dice si che bello la lore si che bello posso finalmente studiare i pokemon a me piace proprio fare queste cose però se non siete questo tipo di giocatori è un difetto è un tipo di gameplay loop problematico perché è estremamente ripetitivo e mostra il fianco a delle lungaggini mostra il fianco a delle sezioni teriose è grinding a tutti gli effetti e non è detto che il grinding piace a tutti i giocatori se poi siete investiti all'interno della lore tanto meglio perché sarà un grinding piacevole ma sempre grinding rimane questo anche Cydonia lo dice sono due punti di vista diversi uno dei due però tratta la questione in modo un po' più maturo e con una visione più ampia vi ripeto a me che non sono assolutamente fan del brand il gioco interessa parecchio però parto già sapendo che ci sono delle cose che non mi piacciono e che so che difficilmente riuscirò a accettare ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon il Patreon dei Poracci con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa grazie a tutti